Martedì 16 febbraio 2021, come ogni martedì su Radiobase c'è la rubrica Diritto ai diritti, curata dall'avvocato Alfonso Mauro Grillo, che è in collegamento con noi. Buongiorno avvocato e ben ritrovato. Buongiorno a tutti quanti voi e ben ritrovati. Chiedo scusa per non essere lì oggi, ma degli impegni mi hanno portato fuori regione per lavoro. Però grazie alla tecnologia siamo comunque presenti. E dunque questa mattina la rubrica non poteva mancare, anche perché avevamo anticipato ai nostri radioascoltatori l'argomento del giorno, ovvero parleremo dei condomini. Beh, iniziamo col dire subito che un condomino sia ogni presente, insomma, un'unità, un immobile. Al cui interno vi sono presenti due proprietari, cioè due soggetti distinti che hanno, per esempio, sono proprietari di due appartamenti oppure di un appartamento di un negozio all'interno della stessa proprietà. Già questo basta per costituire il cosiddetto condominio. Magari molti non lo sanno, quindi si ritrovano in un condominio di fatto. Che cosa vuol dire essere poi in un condominio di fatto? O meglio, che cosa vuol dire essere in un condominio? Vuol dire che ci sono delle parti che sono di uso comune e che in modo inequivocabile, o per gestione o per manutenzione, oppure per qualsiasi situazione che riguarda queste parti, la gestione non può essere divisibile oppure non può essere attribuita sia all'uno che all'altro. Questo anche per quanto riguarda non solo le parti fisiche, ma anche i servizi. Ad esempio, se pensiamo al servizio della corrente elettrica nelle scale, oppure al costo della corrente elettrica per far funzionare l'ascensore, in un palazzo o anche in una palazzina semi-indipendente, come si può fare a stabilire chi è che paga il costo? Beh, è chiaro che in questo caso siamo in presenza di un condominio. Un condominio che anche se non costituito legalmente è un condominio di fatto. Certo. Ovviamente si va a costituire questo condominio che è formato da tutti i condomini, ma anche da un amministratore. Certo. Allora, innanzitutto bisogna dire che quando si è in presenza di un numero minimo, si può costituire proprio formalmente il condominio, attribuendo al condominio, prima di attribuire a un amministratore un codice fiscale, dargli un'entità giuridica, quindi costituirlo come soggetto. In modo tale che tutte le azioni che riguardano le parti comuni siano imputabili non ad un singolo soggetto, ad un singolo condominio, ma al condominio come soggetto giuridico. E quindi a questo punto sarà possibile, una volta costituire il soggetto, ad esempio come il caso delle utenze, intestare al condominio le utenze e quindi magari la bolletta energetica arriverà al condominio, intestata al condominio che ne sarà responsabile. Sarà possibile intestargli dei contratti, contratti di manutenzione delle parti comuni, eventuali contratti di ristrutturazione che il condominio potrà stipulare, se facciamo un classico del fatto che c'è da rifare la facciata, che è un classico in tutti i condomini, chi è che fa il contratto con le imprese? Chi è il responsabile dei giuridici? Oppure quando la facciata non è stata rifatta e crolla, chi è il responsabile per questo tipo di azioni? Beh, è il condominio e lo è in quanto costituito come soggetto giuridico. Ovviamente una volta costituito il condominio come soggetto giuridico, deve essere nominato un amministratore, cioè un soggetto che innanzitutto lo rappresenti, perché il condominio può compiere delle azioni come tale, ha bisogno di un legale rappresentante. Può anche essere presente in giudizio e citare i propri condomini in giudizio, oppure essere presente in giudizio perché è citato da altri. Ci sono degli atti che deve compiere, come ad esempio il pagamento delle utenti, deve avere un bilancio e deve essere amministrato. E quindi viene nominato un amministratore. Ora, da chi viene nominato questo amministratore? Mi chiederai Rosanna. Beh, l'amministratore viene nominato dall'Assemblea dei Condomini. Esatto, riunita. L'Assemblea, così come può nominare l'amministratore, ha anche il potere di revocarlo, nel caso in cui ritenga che non ci siano più le condizioni di fiducia perché questo amministratore continui la sua permanenza ha un regolamento che è il cosiddetto regolamento condominiale che stabilisce tutte le regole e le fasi per la gestione e per l'utilizzo delle parti comuni. La cosa, diciamo, che è importante, al di là dell'amministratore, appunto, è quest'altro organo che è l'Assemblea Condominiale, che è un po' come se fosse un piccolo consiglio comunale del Paese, dove si prendono le decisioni, dove si elege e si nomina l'amministratore, dove si verificano e si approvano i bilanci condominiali, dove appunto si può sfiduciare l'amministratore, che è una cosa che interessa molti condomini, perché di solito si sa che l'amministratore di condominio è una cosa che quasi nessuno vuole fare, perché è sempre il soggetto più odiato del palazzo. Tu hai un amministratore di condominio, Rosanna? Certo, certo. Certo, ed è ovviamente il più odiato di tutto il palazzo. Vabbè, i problemi ci sono, come ben sai, un po' in tutti i condomini e come facevi bene a rimarcare che ci sono delle regole condominali che bisogna rispettare, le devono rispettare ovviamente tutti, altrimenti, insomma, ci sono problemi. L'autocompito spetta l'amministratore, tra cui anche la riscossione, la cosa più difficile, la riscossione del pagamento delle condominali. Ora, queste condominali sono dovute per forza? Sì, sono dovute, perché appunto sono la ripartizione delle spese che il condominio ha. E' quel fetemone dell'amministratore dei condominio è il bisogno del soggetto deputato a raccogliere queste spese. E questi soldi non li prende lui, ovviamente. Vanno a finire nel fondo, nella cassa finale. Tant'è vero che una volta costituito il condominio giuridicamente potrà avere anche un conto e su questo conto passeranno tutti gli incassi e i pagamenti del condominio stesso. A fine anno l'amministratore farà un rendiconto e un bilancio condominiale che sottoporrà all'assemblea, che potrà approvarlo oppure no e potrà anche chiedere spiegazioni su spese o situazioni che non sono chiare, perché le spese straordinarie sicuramente vanno tutte quante deliberate, le spese ordinarie, ovviamente parliamo di spese straordinarie non urgenti, le spese ordinarie vanno elencate, si conoscono solitamente come voce di giù, ci possono essere delle spese urgenti per cui si porta a conoscenza del condominio, ma l'amministratore ci sono cose che deve fare, oppure spese correnti minimo, ha comunque un fondo CAS da cui può attingere queste spese, salvo giustificarle sia con le apposite ricevute, sia con le dovute motivazioni. Quindi come vediamo è un sistema che è perfetto, ci sono sia gli strumenti da parte dei condomini per controllare l'amministratore, sia gli strumenti per l'amministratore per far rispettare la sua fila e farsi rispettare, perché poi l'amministratore non è quell'uomo cattivo che chiede i soldi oppure che dice non puoi fare questo, non puoi fare quello, è quell'uomo che mette in esecuzione i cosiddetti regolamenti condominiali, o meglio le regole condominiali. Ad esempio un'altra cosa classica dei condomini, quando sono presenti dei bambini e c'è uno spazio comune, la regola prima delle quattro non si può scendere a giocare a pallone. Oddio, non so se si usa più questa cosa, se ci sono più i bambini che vanno a giocare a pallone. Io ricordo quando ero ragazzo che nel condominio dove abitava mia nonna andavo sempre a giocare a pallone e litigavamo sempre con l'amministratore perché scendevamo mezz'ora prima. Noi erano l'uomo più cattivo del mondo, ma... Hai un brutto ricordo, hai un brutto ricordo. In realtà non è così, io per un pallone qualcuno ha un brutto ricordo perché l'amministratore come ho detto va sempre a chiedere cassa, ma ripeto non è per sé, ma è perché è un atto dovuto per il condominio. L'assemblea può sfiduciare l'amministratore? Lo può cambiare? Sì, lo può cambiare. Ovviamente la maggioranza è data però non dal numero dei condomini, ma dalle particelle decimali che costituiscono il condominio. Insomma è un po' come se fosse una società. Quindi quello che dà pure il tuo peso è la quota decimale che tu hai all'interno del condominio. Una cosa che diamo, questo è un argomento vastissimo, quando si può sciogliere questo condominio, quando è che non c'è più condominio? Quando non ci sono più delle parti comuni, non c'è più l'esigenza dovuta sia da motivi di legge per cui vi sia una gestione comune del bene. Il consiglio che ovviamente diamo a tutti quanti da adesso in poi è che avendo conosciuto i loro diritti e conoscendo ora quello che è il vero ruolo e l'importanza della figura dell'amministratore è quello di iniziare ad avere un rapporto più sereno con l'amministratore. Loro hanno gli strumenti e i mezzi per controllare il proprio operato, di rispettare le regole imposte dal vivere comune in modo tale che soprattutto si avrà sempre più una vita dominiale tranquilla. Sono molto frequenti infatti le cause tra condomini oppure sono sempre più frequenti le cause che un condominio fa verso un condomino, c'è un intrasamento dei tribunali. Diamo l'ultima chicca, ovviamente il ricorso alla giustizia è l'atto estremo e in rappresentanza del condominio vi è l'amministratore che ha il potere di incaricare un legale di svolgere l'attività di difesa del condominio e come lo può fare anche nei confronti di un condominio autorizzato dall'assemblea. E' chiaro che in questi casi le cause più frequenti sono o per beghe condominiali oppure per la discussione dei cosiddetti tributi della quota condominiale. Quindi l'invito insomma che vogliamo fare ai nostri radioascoltatori che si trovano in un condominio è quello di rispettare le regole e magari all'amministratore di avere un poco di pazienza. Sei d'accordo avvocato Grigio? Ai condominio, l'amministratore quando accetta il ruolo lo sa già che fa. Tanto è vero che ormai è un ruolo che non accettano più i condomini, l'amministratore è sempre un soterno proprio perché non vuole avere problemi con i suoi condominio. Più che altro direi ai condomini di capire e di essere pazienti perché si sta solo svolgendo un ruolo. non è un fatto male. Infatti. Abbiamo già l'argomento per la prossima settimana? Sì, la prossima settimana, visto i fatti degli ultimi tempi, vorrei parlare della privacy. Perfetto. Del diritto alla privacy, insomma che è una cosa che è sempre attualissima e ci viene sempre meno. Infatti con questa tecnologia adesso possiamo essere dovunque. Voi siete in studio, io sono qua in un ufficio di Roma. Ovviamente ci auguriamo che martedì prossimo sei qui con noi a Radiobase, in studio. Martedì prossimo sarò in studio. Benissimo, allora noi ringraziamo come sempre l'Avvocato Alfonso Mauro Grillo che cura per Radiobase la rubrica diritto ai diritti. Questa mattina abbiamo parlato di condomini, la prossima settimana invece parleremo del diritto della privacy. Grazie Avvocato, buona settimana. Grazie a voi, buona settimana. E ovviamente diritto ai diritti ritorna martedì prossimo sempre qui a Radiobase. Una buona giornata a tutti quanti voi. Ciao.